L'esperienza di Story Factory, raccontare l'innovazione nei percorsi della digital transformation è un po' quella che è la vostra missione in questo momento. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Sì, io sono, lasciatemi condividere la mia emozione in questo momento di stupore e sorpresa della qualità dei vari progetti che stiamo sentendo e abbiamo ascoltato. Parto da qui perché, mentre mi emozionavo con sorpresa nell'ascoltare la qualità di tutti i progetti, mi chiedevo quanti contenuti, quante storie, quante argomentazioni vanno create per ingaggiare i pubblici interni, motivare i pubblici interni a questi grandi cambiamenti, a queste grandi innovazioni e quanti contenuti vanno creati per ingaggiare i pubblici esterni, gli stakeholder. Ecco, questo è un tema chiave per noi e le domande che potrei farvi, che ci sono state rivolte da nostri clienti sono oggi avete questi contenuti che sono in grado di coinvolgere gli stakeholder, i clienti, farli emozionare, su progetti che sono sempre più complessi. Avete tutti gli insight e tutti gli asset per raccontare gli SDG, per raccontare i grandi temi della sostenibilità, dell'inclusion, della diversity. Come si fa? Ecco che quindi queste domande sono domande che ci hanno rivolto negli ultimi 12 mesi i nostri clienti e noi abbiamo deciso di applicare l'intelligenza artificiale per cercare, e oltre che le nostre metodologie per cercare di dare risposte e quindi abbiamo creato questo percorso, questa area di servizi anche nell'ultimo anno che oggi è in grado di leggere con grande attenzione i bisogni dei pubblici a cui si racconta, estrapolare gli insight del racconto perché la storia è importante da fare, è sempre quella degli altri agli altri, non solo la propria, costruire una serie di contenuti mirati che l'intelligenza artificiale permette di ottimizzare e poi sapere esattamente quali strumenti, quali tools, quali media ad operare per poter raccontare i propri progetti di innovazione. Perché la cosa interessante che emerge dalla nostra esperienza è che il 70% dei progetti di innovazione e di digital transformation in senso lato fallisce, quindi sottolineo fallisce il 70%, se non viene raccontata in un certo modo ai pubblici interni e esterni. Quindi è necessario un ingaggio sempre più importante, sempre più emozionale, che implica la costruzione di storie, storie di trasformazione, storie di cura, storie di valore, ce ne sono tantissime che si possono creare, ma che hanno al loro interno tre grandi asset. Il primo è l'ispirazione, è necessario creare storie che ispirino, perché se no le persone non si muovono, se il cuore non batte e se l'anima non sogna, le persone non si mettono in movimento. La seconda grande questione è argomentare i cambiamenti, l'innovazione va spiegata, altrimenti le persone non capiscono perché dovrebbero cambiare. E la terza grande questione che noi cerchiamo di portare ai nostri clienti, alle nostre attività, è argomentare il valore aggiunto. Cioè qual è il valore aggiunto nel fare questa nuova attività per me, per le mie comunità di riferimento, per la mia azienda. Ecco che quindi queste sono le attività che noi stiamo portando avanti e devo dire che il 65% dei nostri pubblici riscontra un grandissimo cambiamento quando applica certi tipi di narrazioni, tipologie di racconti all'ingaggio dei pubblici interni e esterni. Grazie.